Ha bruciato più di mille ettari di bosco e vegetazione il terribile incendio scoppiato nella tarda serata di lunedì sui monti pisani, rendendo necessaria l'evacuazione in via precauzionale di 700 persone. La stima è stata diffusa dal presidente della regione toscana Enrico Rossi, che dopo aver decretato lo stato di emergenza, questa mattina è tornato per il secondo giorno consecutivo al centro di coordinamento di calci per seguire direttamente le operazioni. Dopo una seconda notte d'inferno a causa del vento, che soffiando a 50 km all'ora ha fatto avanzare ulteriormente il fronte del fuoco verso Vicopisano, alimentando un altro rogo ad Avane nel comune di Vecchiano, dalle 7 del mattino 5 canadere e 7 elicotteri hanno ripreso a volare per scaricare acqua sull'incendio, con l'aeroporto Galilei di Pisa chiuso per lasciare libero lo spazio aereo. Nel pomeriggio il rogo risultava praticamente spento a calci, ma bruciava ancora su un crinale verso Vicopisano. Sul posto 82 squadre di vigili del fuoco, operai forestali e volontari antincendio, a cui poi hanno dato il cambio un'altra cinquantina di squadre. A fine giornata a calci gran parte degli sfollati era rientrata nelle case, mentre la situazione restava difficile a Vicopisano. A causa del vento forte previsto anche nei prossimi giorni, la regione ha prorogato fino a 10 ottobre il divieto di abbruciamento di residui forestali e l'accensione di fuochi. Grazie a tutti.